Leggiamo una fiaba? Perché è importante leggere le fiabe ai bambini? A che età è bene iniziare a leggere le fiabe? Quali fiabe leggere? È giusto leggere le fiabe che fanno paura? Come leggere una fiaba? E se volessi inventare una fiaba con il mio bambino? E come raccontare una fiaba a scuola? E come inventarle insieme ai bambini? Tante domande che spesso trovano tante risposte diverse e magari creano un po' di confusione. Le fiabe sono fondamentali per accompagnare la crescita e lo sviluppo infantile. La narrazione è uno strumento importantissimo di comunicazione nella relazione educativa e la comunicazione alimenta il bisogno del bambino di relazione e conoscenza insegnando l'empatia e l'accoglienza. Leggere una fiaba ai piccoli vuol dire creare uno spazio prezioso di condivisione, amore, sicurezza, benessere e crescita. Poi scoprirai che il magico potere delle fiabe funziona molto bene anche per mamma e papà. Questa è una piccola parte del corso online Leggiamo una fiaba che è rivolto ai genitori, agli insegnanti, agli educatori e a tutti gli addetti ai lavori che intervengono nel percorso educativo del bambino. È un corso online, puoi svolgerlo tranquillamente da casa e secondo i tuoi tempi. Per informazioni e per acquistare il corso